Si è rinnovato ieri il comitato ristretto dei sindaci dell'ASL di Teramo, presieduto dalla sindaco Maurizio Brucchi. Sono stati riconfermati il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, e il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, mentre al posto di Alberto Pompizzi subentra Andrea Luzzi per il comune di Santomero, e al posto di Stefania Guerrieri di Rocca Santa Maria subentra il sindaco Ennio Pavone di Rosseto. Un organismo riequilibrato politicamente, ma non più da un punto di vista territoriale, e con l'esclusione della rappresentanza montana a favore della costa. Ieri credo che per la città di Rosseto sia stato un momento importante. I 47 comuni della provincia di Teramo hanno eletto nel comitato ristretto dei sindaci il sindaco della città più grande, dopo Teramo capoluogo, che è la città di Rosseto, che d'estate arriva fino a 80-100 mila persone. Abbiamo un presidio qui nella ASL, qui a Rosseto, che è un punto di riferimento per l'intera vallata del Vomano, e quindi credo che il sindaco di questa città possa rappresentare degnamente tutta questa zona. Per quanto riguarda invece la polemica sulla montagna, il comitato ristretto non ha funzioni di direzione o di condizionamenti dell'attività del direttore generale. È un'attività consultiva e di partecipazione anche sui bilanci dell'azienda, sugli atti di programmazione aziendale, ma non ha questo potere che si vuole far credere. Quindi questa polemica fuori posto è secondo me sterile, perché è invece nella azione della direzione generale dell'ASL che si deve fare in modo che i servizi vengano eragati su tutto il territorio provinciale, quindi a prescindere dalla collina o dal mare, perché le persone sono tutte uguali e quindi ognuno ha diritto ad avere un servizio efficiente.